Io voglio dire che anche questo pomeriggio prima della lezione ho fatto un controllo con la sfera politica per me perché in questo periodo sto avendo dei problemi con delle ossa e ho elencato tutte, anzi ho letto tutte le sequenze numeriche che riguardano le ossa e ho avuto subito un immediato sollievo, ho raggiunto un buon obiettivo oggi pomeriggio. Quindi devo dire che questo tipo di controllo mi piace molto perché è veramente efficace e veloce. Grazie. Grazie, grazie. Grazie mille. 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 E sta attraversando tutto il sistema OSEO. Lo senti? Sì, sì. Sì, sì. Ora ognuno fa il controllo a modo suo, quindi può aggiungere le sue sequenze numeriche per le quali ha lavorato personalmente e quindi ora rendiamo questo controllo in questo modo ancora più forte e lo spingiamo in avanti, quindi il nostro controllo dovrebbe sempre crescere nella sua forza. E' un controllo costante, senza interruzioni, quindi memorizziamo bene queste parole, che questo è un movimento costante, continuo. Dobbiamo in questo modo insistere sulla nostra volontà, quindi spingere in avanti la nostra volontà, questa idea politica che vogliamo realizzare per il nostro bene e anche per il bene di tutti gli altri. Quindi stiamo facendo questo controllo e ad un certo punto potete anche sentire che la vostra azione è... Sincronizzata con l'azione di Dio, quindi ad un certo punto sentite questa sincronizzazione. E chiede a Rossella se senti a questo punto la sincronicità della tua azione che stai facendo insieme a Dio, se si sente. Molto, moltissimo, moltissimo. Sincronizzata con l'azione di Dio. E ora sintonizzatevi, ora Rossella anche tu sintonizzati e cerca di percepire come percepisci per esempio il controllo di Gregorio Petrovic nell'ottica e anche il controllo di Dio. Appena quando pensi a queste parole, come si percepiscono l'ottica del controllo di Gregorio Petrovic e l'ottica del controllo di Dio? Identifico entrambi nella stessa persona intanto e vedo una luce bianca che esce dal centro della sfera, una luce bianca luminosa, fortissima, che va verso l'alto. E poi mi sento invasa da questa luce, mi sento proprio tutta avvolta e sono tutta sudata, devo dire la verità. Dio. 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 noi possiamo diventare forti solo sviluppando il nostro spirito, rafforzando il nostro spirito. Ecco perché noi insistiamo sul nostro controllo quindi continuiamo a svilupparlo a spingerlo in avanti. Specendo così noi sviluppiamo anche il nostro spirito, la forza dello spirito. Grazie a tutti.